pronto c'è nessuno c'è qualcosa ciao ragazzi guardate un po' cosa ho preso si sta avvicinando di molto alla scuola e vi volevo far vedere questo zaino che cosa ci sarà mai dentro questo zaino? qui non c'è niente qui invece c'è già qualcosa e ci sono anche tante cose i giocattoli di Ben 10 ma questo è veramente grosso guardate è grossissimo questo eccolo qui ok ah e qui dietro fa vedere che ci sono questi altri due voi lo conoscete vero Ben 10? questo ragazzino ha di potere questo orologio che si può trasformare in dieci cose ma anche in più perciò si chiama Ben 10 lui si chiama Head Blast così si può muovere come lo potete maneggiare anche le braccia al contrario gira anche la testa questo invece è Diamond Head Diamond Head tutto attaccato e testa di diamante io ho solo testa di diamante e do dei piedoni enormi qui datevi la mano e fate i bravi lui si chiama Four Arms cioè quattro braccia ci sono anche queste catene così io mi chiedo sempre se noi avessimo quattro braccia come ci sentiremmo? come riusciremo a muoverle? non lo so guardate questo quattro braccia Four Arms ragazzi forse c'è qualcos'altro nello zaio? si si dei diari pronto? c'è nessuno? c'è qualcosa? non ci sono più abitanti nello zaino allora vi piacciono questi diari? indovinate per chi sono questi diari? questi diari sono per voi devo fare un sorteggio dove vi manderò questi tre bellissimi diari per partecipare a questo bellissimo concorso dovete per prima cosa iscrivervi al mio canale e come seconda cosa dovete scrivere un commento qui sotto avete tempo fino al 27 agosto che è domenica dopo farò l'estrazione comunque vi lascio qui sotto in descrizione tutte 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 le indicazioni ragazzi spero tanto che questo video questo zaino questi personaggi e questi diari vi siano piaciuti mettete un piaciuto se vi è piaciuto il video questi personaggi e questi diari iscrivetevi al mio canale e ciao e attivate la campanella della notifica e ciao ciao da Leonardo questi personaggi bellissimi zaino e diari che manderò a tre persone e vi è piaciuto il video ciao 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 ciao